Allora, per finire in bellezza finiamo provando a risolvere questo esercizio, che era quello di settembre, il tema di esame di settembre dell'anno scorso, il cui testo è qua. L'anno scorso c'era quest'altro database che si chiamava iTunes, che conteneva diverse tabelle relative a delle tracce ascoltate su iTunes, essenzialmente, come dice il nome, quindi le tracce musicali che appartenevano a certi album musicali di certi artisti, quindi abbiamo quella parte di catalogo, queste potevano essere di varie tipologie, di vari generi musicali, il genere associato stranamente alla traccia e non all'album, traccia sarebbe singolo brano, e poi le playlist all'interno delle quali queste tracce erano incluse, c'era un ID di playlist che gli utenti ricreavano e all'interno dei quali inserivano le tracce di loro preferenza. Qui avevamo ritagliato un po' il database, non ci sono informazioni sugli utenti, non ci sono informazioni su quante volte vengono, diciamo così, suonati questi brani, ma semplicemente sulla parte di inclusione dei brani nelle playlist e tutte le informazioni di contorno rispetto ai brani stessi. E questi erano i dati su cui ci chiedevano di lavorare. Si intende costruire un'applicazione che faccia che cosa? Allora, leggiamo il punto 1, permette all'utente di inserire in un certo campo di testo una durata di, espressa in minuti, poi di creare un grafo che sia semplice, non orientato e non pesato i cui vertici siano tutti gli album musicali, quindi della tabella album, la cui durata sia superiore ad i. Quindi un grafo di album e il criterio di inclusione degli album all'interno del grafo è la durata totale dell'album. La durata totale dell'album è un dato che non esiste perché l'album non ha una durata, ma si ricava facendo la somma delle durate dei singoli brani, che questo campo qua, millisecond, mi dà la durata di un brano che appartiene all'album. Infatti era anche specificato, intendo come somma delle durate dei brani. Due album, e questi sono i vertici, per quanto riguarda gli archi, due album sono collegati tra di loro da un arco, se almeno una canzone di A1 e una canzone di A2 sono state inserite da un utente all'interno di una stessa playlist. Quindi abbiamo due album diversi, ogni album ha un suo elenco di canzoni, ci chiediamo c'è almeno un utente che in una sua playlist, lasciamo parli all'utente, c'è almeno una playlist in piattaforma che all'interno contenga un brano di uno e un brano dell'altro? E poi c'è l'ultimo punto che ci chiede di selezionare un album tra quelli presenti nel grafo, quindi questo album qua, sono i vertici di questa tendina qua, dovrà contenere i vertici che abbiamo inserito nel grafo, e stampare la dimensione della componente connessa a cui appartiene A1 e la durata complessiva in minuti di tutti gli album appartenenti alla componente connessa di A1, quindi la somma di questi minuti essenzialmente. Ok? Allora dal punto di vista del progetto abbiamo già nel modello le varie classi, in particolare sicuramente avremo bisogno di lavorare con la classe album, ID, titolo e teniamo conto che c'era già stato previsto un campo durata nella classe album, visto che alla fine poi tutto il progetto si basa sulla durata degli album, questo campo qui in realtà nel database non c'è, se io vado a vedere la tabella album i dati contengono l'album, il titolo e l'artista, la chiave esterna rispetto all'artista, non c'è la durata, però visto che poi la durata mi servirà almeno in due momenti, primo per filtrare i vertici e secondo per stampare poi questo valore, chi ha preparato queste classi base ragionevolmente ha già previsto di avere un attributo durata che quando faremo la query ci tiriamo su anche questo valore, ci calcoliamo questo valore, oppure faremo una query successiva per popolarlo, adesso vediamo, ma se non ci fosse stato già questo campo io avrei subito proposto di aggiungerlo, in modo che così nel vertici del grafo ho anche questa informazione di durata che è un'informazione calcolata, non è un'informazione primitiva del database ma sicuramente mi serve per tutta la durata dell'esercizio. E per il resto, vabbè, la classica, diciamo così, classe generata con i metodi standard. Su questo testo qui non abbiamo bisogno di molto altro, se non le playlist, una playlist in realtà è una classe molto, diciamo così, quasi inutile, nel senso che c'è un nome di una playlist e un id della playlist, ma a noi non interessa tanto l'oggetto playlist quanto i brani che sono in essa contenute, no? Che nel database, ops, perdono, ho messo una X, che nel database sono dove? Sono nella tabella playlist track. E qui ci dice, possiamo vedere effettivamente quali sono le tracce inclusi in una determinata playlist e vedere quindi se ci sono due tracce incluse nella stessa playlist. su playlist track è la classica tabella che è stata generata a livello di database razionale come per materializzare una relazione molti a molti, per implementare una relazione molti a molti e come da, diciamo così, standard istruzioni dell'ORM non è stata messa, non è stata creata una classe, quindi non esiste una classe per il momento nel modello che contenga questo playlist track. Vedremo poi se ci serve, se non ci serve, dovremo costruircela, ma sicuramente sul costruzione degli archi, la costruzione degli archi ci servirà andare a interrogare questa signorina qua, questa tabella qua. Ok, io proverei a partire a questo punto, andiamo a vedere nel DAO quali metodi ci troviamo già, il metodo che mi dà tutti gli album, ma non si porta dietro il peso, infatti ci mette un peso fittizio pari a zero, poi abbiamo un album che mi dà tutti gli artisti, che in questo esercizio direi che non me ne può fregare di meno, tutte le playlist, di nuovo sono abbastanza inutili, tutte le track, vabbè, ci sono tutte le query get all delle varie tabelle, vediamo poi se ci servono o se probabilmente dovremmo personalizzare. Ok, allora mettiamoci nel modello, la classe model c'è già, vuota, siamo già nel branch soluzione, sì, quindi possiamo cominciare a implementare le varie funzionalità, no? Quindi la prima chiaramente era, andiamo in ordine, partendo da una certa durata, creare un grafo con quel criterio, quindi creare i primi vertici e poi, quindi immaginiamoci il classico metodo public void crea grafo che avrà ovviamente una durata double o intera, espressa in minuti, non mi dice nulla riguardo il tipo di questo dato, allora la durata la esprimo in minuti, se io vado a vedere però le durate che ho nel database sono relative al track e sono durate nome, id dell'album, media type, genere, compositore, millisecondi, byte e prezzo, quindi la durata è rappresentata dal campo millisecondi che è un numero intero, però ragionando in minuti a questo punto se sono millisecondi interi i minuti saranno frazionali, quindi conviene probabilmente lavorare con valori reali di questo valore d, così possiamo filtrare su 3,5 minuti ad esempio anziché solo 3 o 4 minuti. Quindi il crea grafo parte da questa durata, chiamiamo duration così perché d potrebbe essere una variabile poco significativa e come prima cosa dobbiamo ottenere tutti i vertici corrispondenti agli album con una durata maggiore o uguale a questa duration e tanto vale ci calcoliamo anche la duration stessa, quindi io penso che questa operazione qua si possa fare facilmente con una quirisola, una quirisola in cui mi tiro giù gli album, tutti e la loro duration e li filtro rispetto alla duration minima che voglio avere. Quindi proviamo a buttare giù una query, siamo nella tabella track e album, quindi la mia interesse è l'album ma all'album, all'interno dell'album devo fare una join con le track per poter andare a pescare i brani che appartengono, i track quindi i brani che appartengono a quell'album e la relativa durata, quindi avrò un select from album e track con la condizione di join sul id dell'album, quindi album.id come si chiama, album.id uguale a track.album.id dove dell'album vi può interessare quasi tutto, album.asterisco e della track mi interessa essenzialmente solamente la somma della durata, quindi sum di track.milliseconds e visto che ho un operatore aggregato devo avere anche un operatore di raggruppamento album.id dell'album una cosa del genere non gli piace questa cosa qui, se l'ha messa lui eh quindi questa dovrebbe essere una query dove ho 347 righe, andiamo a vedere se 347 corrisponde al numero di album sì, corrisponde al numero di album per ciascuno dei quali ho i tre campi dell'album e la somma dei millisecondi di quell'album qui li ho tutti, io devo solo selezionare quelli che hanno una certa durata minima, quindi ci metterò una clausola di having questo, chiamiamolo, questo campo qua lo chiamiamolo di chiamiamolo duration anche questa, così almeno ci ricordiamo che è la stessa cosa having duration maggiore o uguale che ne so, di 3 minuti ad esempio 180.000 e sono 3, quasi tutti 332, facciamo 5 minuti da 600.000 perché è un album intero, pensavo al singolo brano e quindi se ho degli album di 5 minuti quindi sono 60 per mille millisecondi 60 per... ho detto 600.000 sono 600 secondi quindi sono 10 minuti non 5 minuti poi facciamo qualcosa da Java che è più bravo di me questi sono gli album che hanno una durata complessiva almeno di 10 minuti sono solamente 262 rispetto al totale quindi più aumenta questo numero 12.000 quindi 20 minuti e più diminuisce chiaramente il numero di album che sono selezionati ci sono album particolari che hanno questi che ne so, 59.000 secondi può essere un dato un po' strano nel database perché questi sono millisecondi 59.000 secondi sono ore e ore e ore però può darsi questo in realtà sembrano più serie tv che non album musicali quindi magari la durata degli interi magari qua dentro in questo database ci sono anche dei video non solamente dei dischi però vabbè noi prendiamo i dati per quello che sono ok allora questa è la query che ci dà già le informazioni utili per creare tutti i vertici quindi possiamo implementarla andando praticamente a personalizzare il metodo che c'è già che mi da tutti gli album lo tengo così e ne modifico uno dammi solo gli album che hanno una certa durata quindi ce l'abbiamo già pronto lo duplichiamo lo chiamiamo getAlbums withDuration withDuration doubleDuration quindi grossomodo ce l'abbiamo già pronta la query dobbiamo il metodo scusatemi dove ovviamente inserire questa query qua che è un pochino più complicata dell'altra e vabbè soliti lavori ignobili di sistemazione di spazio di ACAPI e ovviamente la duration soglia avrà un punto interrogativo poi creiamo lui si crea una lista di album da restituire come risultato apre la connessione prepara lo statement adesso a questo punto prima di eseguire lo statement dobbiamo fornire il valore da sostituire al punto interrogativo quindi sarà statement.set statement.setint setint perché stiamo filtrando su un campo che è una somma di millisecondi una somma di numeri interi poi il numero che ci passiamo è dato dal numero di minuti che noi abbiamo come double convertito in millisecondi quindi il primo parametro sarà uguale alla mia duration che ricordiamoci era in minuti la moltiplico per 60 per farla in secondi la moltiplico per 1000 per farla in millisecondi e tutta questa frittata la converto in intero così dall'esterno del DAO parlo solo in minuti perché il minuti è l'unità di misura di cui mi parla il testo poi chiaramente quando faccio la query dovrò passargli un valore che sia in millisecondi perché lui internamente ha come somma somma dei millisecondi e a questo punto dobbiamo anche aggiungere modificare un attimo il pezzo in cui crea l'oggetto dove abbiamo visto che nel metodo che c'era già nel progetto mettiamo uno zero questa volta dobbiamo mettere il valore effettivo che abbiamo calcolato ma questa qui dice lo calcola ovviamente quindi res punto get duration a questo punto è mi da attenzione che mi da la somma in millisecondi quindi qui devo fare l'operazione inversa eh quindi mi darà eh come double leggiamolo come double il campo duration che mi arriva dal database come millisecondi io però lo voglio mettere nell'oggetto come minuti quindi diviso 60 diviso 1000 per toglierci lo sfizio facciamo un test dao e vediamo se salta fuori la cosa giusta vogliamo immaginare di no perché qua guardate c'era già un test in itunes dao lavorando nel package sbagliato scusate eh la quarta qua la buttiamo via possiamo calcolare get albums with duration di cinque minuti e vediamo cosa mi stampa questo qua questo qua 5.0 quindi passo un double beh così debaghiamo subito questa query e non ci pensiamo più eh non suitable driver c'è qualcosa sbagliato dal db connect sì perché nelle versioni questo di questo dipende dal a volte prendendo i progetti vecchi avevamo una query con scritto MySQL anziché MariaDB ma perché le versioni più antiche la versione 3 praticamente del driver JDBC di MariaDB rispondeva sia a MySQL sia a MariaDB la versione attuale di cui avevo aggiornato le ultime versioni in questo progetto prima di diciamo di iniziare a lavorarci la versione 5 del driver di MariaDB risponde solo a MariaDB e quindi si scrive MySQL lui dice non è per me però ok e ora e qui stampa una certa serie di cose possiamo eventualmente anche solo senza vederle tutte farci stampare quante sono e poi facciamo la stessa query non con 5 minuti ma con un'ora e dovrebbero venire fuori due numeri diversi per assurdo se io mettessi la durata minima pari a 0 dovrei avere l'intero insieme di tutti gli album come verifica che è quel 347 che avevamo già visto prima cioè la lunghezza della tabella degli album ok ok quindi siamo abbastanza convinti che questa query funzioni la usiamo per creare il grafo a questo punto il modo del mio creagrafo dimmi no ah sì ok ho capito cosa vuoi dire cioè noi abbiamo qui dentro adesso un metodo pericoloso che è questo get all albums che restituisce un oggetto di album ma questi album dentro hanno un dato finto che è uno 0 no e quindi se mai dovessimo chiamarla rischiamo di avere degli oggetti che hanno un valore errato quello che dici tu vorrebbe dire buttiamo via tutto e questa cosa qua di fatto la ribaltiamo su return get albums with duration 0 così nel senso che a questo punto me li lascia tutti no me li da tutti ma in più mi riempie anche il campo duration che giustamente è un campo dell'oggetto è giusto valorizzarlo certo poi magari questo metodo non lo chiamiamo mai quindi ci sfuggiva ok nel grafo allora devo crearmi i vertici e vabbè poi gli archi prima di tutto avrò un grafo quindi private graph graph col ph messi giusti che ha come vertici a questo punto la classe album è un vertice non pesato quindi default edge grafo quindi this punto grafo lo creiamo uguale new dunque semplice non orientato non pesato dovrebbe essere simple graph come classe qui crea un nuovo grafo semplice default edge punto classe creiamo questo grafo e cominciamo a buttarci dentro i vertici che li otteniamo dal nostro DAO quindi iTunes DAO DAO uguale new iTunes DAO this punto grafo punto add scusate no prendiamo l'add all vertices graphs punto add all vertices aggiungiamo a this punto grafo tutti i vertici che arrivano da DAO punto che è TALBUM di duration del valore duration che abbiamo ricevuto come parametro della funzione del metodo quindi prendo la lista di album che abbiamo creato che è già filtrata rispetto alla durata la durata per il model è un parametro di ingresso che il controller avrà validato speriamo e poi creo il grafo creo i vertici passo successivo è creare gli archi allora noi abbiamo visto che questo grafo ha al massimo 340 vertici 347 in questo esempio qua con questo database qua quindi questo è il nostro valore di riferimento con cui andare a ragionare su quali opzioni per creare il grafo siano più comode allora noi cosa dobbiamo avere un elenco di ogni arco è una copia di album che soddisfa un certo criterio il criterio è che i due album contengano no almeno una track nel primo e almeno una track nel secondo che siano all'interno di almeno una playlist sembrano gli esercizi di esami di base di dati si riescono a fare una cosa del genere si riesce a fare facilmente con una query sola se vogliamo oppure facciamo tante piccole query che sono più facili ma proviamo con una query sola se poi vediamo che ci infanghiamo diciamo ci intampiamo nel non riusciamo ad andare avanti allora pensiamo cose più semplici però noi allora noi vogliamo alla fine coppie di vertici coppie di album album 1 album 2 quindi dovrò fare una join select un po' di roba la join dovrò fare tra un album a 1 un album a 2 ok di questi due album vado a selezionare una track una track quindi una track t1 e una track t2 queste track devono appartenere all'album quindi chiaramente dovrò aggiungere una condizione di join della track sull'album a 1 punto album id uguale t1 punto album id and a 2 punto album id uguale t2 punto album id quindi a questo punto io ho una tabellona con tutti gli album e ciascun album è affiancato tra virgolette da tutte le da tutti i suoi brani se io provassi a eseguire questa viene fuori un mostro perché no sto combinando tra di loro tutti i track t1 tutti i track t2 quindi questa qui in realtà sta moltiplicando tra di loro le track non solo gli album quindi poverino sta pensando e dobbiamo vincolarla un pochino di più e dobbiamo vincolarla al fatto che esista almeno una playlist che comprende sia t1 che t2 ok? come faccio a sapere se c'è una playlist ecco questo qua sono 12 milioni e rotti righe che saltano fuori con tutti i dati queste sono tutte le combinazioni ok? di una track e un'altra track ovviamente con le informazioni relative alle track e ai relativi album in tutti i modi possibili di queste dobbiamo andare a filtrare quelle che appartengono a una stessa playlist quindi una playlist che contenga entrambe le track qui dove ce l'ho questa informazione ce l'ho dentro playlist track quindi devo trovare ho queste due track la track 10 la track 30 che sono entrambe nella playlist 1 adesso quale sia questa playlist 1 non mi interessa mi interessa solamente che questo numero di playlist sia uguale per le due track allora anche qua dovrò creare dovrò fare una giorni con due volte questa tabella qua per il brano 1 per andare a conoscere qual è la playlist in cui o le playlist in cui è incluso il brano 1 e conoscere quali sono le playlist in cui sono inclusi i brani 2 e imporrò il vincolo che queste due playlist siano la stessa e quindi aggiungo altre due tabelle che sono playlist track pt1 playlist track 1 playlist track pt2 dove ovviamente pt1 si aggancia alla track 1 quindi aggiungo la condizione di join pt1.trackid uguale t1.trackid e poi aggiungo l'altra condizione in cui aggancio la playlist track 2 al brano 2 pt2.trackid uguale t2.trackid e poi dulcis in fundo aggancio le playlist pt1 e pt2 sono due istanze due righe diverse della tabella playlist track ma voglio che il null id di playlist sia lo stesso quindi pt1 and pt1 punto playlist id sia uguale a pt2 punto playlist id sì non è where my end quindi abbiamo quindi abbiamo abbiamo questo uguale qua che mi dice sono nella stessa playlist e poi abbiamo tutte le concatenazioni che mi portano all'album anche questo ovviamente richiede il suo tempo perché lui poverino sta provando tutte le combinazioni avremo tante righe che sono tante quante sono le coppie di brani che a noi in ultima analisi in realtà che cosa ci interessa? ci interessa solamente l'album id dell'1 e l'album id del 2 che abbiano almeno una di queste righe qua il poverino lavora più di prima ovviamente perché stiamo incrociando ancora le pt1 t1 pt2 t2 quindi queste cose qua abbiamo la controlla 100 volte e ci mette un certo tempo se la facciamo così perdono aspettiamo ancora un attimo abbiamo fatto offendere id ma poi si riprende eccola qua sono sempre 23 milioni che sono forse meno di prima dove ne prendiamo una riga a caso un po' sotto noi abbiamo un album id 258 che contiene un brano 3.302 è un po' lento perché ha caricato una tabella un po' grossa e dovremmo vedere un altro album più avanti che contiene un altro brano diverso ma questi due brani hanno lo stesso numero di playlist questo qua a noi cosa interessa? a noi interessa solamente ovviamente di tutta questa cosa qua estrarre i due numeri di album c'è questo 258 e la colonna album id che ci sarà più avanti adesso non facciamo arrabbiare l'album id 1 quindi tutta questa cosa qua a noi interessa solamente questo tutte le altre informazioni ci dicono che c'è un percorso che collega l'uno all'altro quindi al posto di questo asterisco appena adesso scrivere dentro adesso scriverò a 1.album id e a 2.album id e a 2.album id e a 2.album id e a 2.album id con un bel disting davanti in modo che non mi dia i duplicati adesso devo aspettare che poverino si riprenda tu ce la puoi fare questo è un po' il prezzo a volte che si è da pagare se vogliamo fare tutto in un botto solo può essere pesante però adesso è troppo piacerebbe a me riuscire a fare coppia e incolla così non la perdo vabbè e allora fidiamoci di id chiudiamolo e non dovrebbe perdere il testo della query no perché voglio chiedere clips id si è chiuso o no? è in uno stato confusionale profondo e dentro sta pensando provaci tu a tenere a memoria 24 milioni di righe ok però qui mi fido del fatto che lui si ricordi l'ultima query che ho scritto e infatti se l'ha ricordata allora proviamo a questo punto a modificarla abbiamo capito che magari gli andiamo più semplici c'è distinct distinct row a1.albumid a2.albumid non so se lo può aiutare o no non so se lo può aiutare o no come tempo di esecuzione sicuramente ci aiuta come numero di vertici adesso qui stiamo facendo lavorare vediamo un attimo cosa tira fuori se notate qua non abbiamo più usato il dato duration qui lo stiamo facendo tutti tutti i vertici, tutti i brani anche se in realtà poi ci ne serviranno quindi di fatto ci sta dando gli archi ipotetici del grafo con duration 0 poi ovviamente alcuni di questi archi saranno validi, altri invece no all'interno del mio grafo e mi ha creato questo è stato anche più veloce 112.000 archi se volessi semplificargli la vita concettualmente dovrei dirgli guarda io non andarmi a prendere tutti gli album ma solo quelli con una duration maggiore di è chiaro che aggiungere un altro count un altro qua dentro non è detto che gli semplifichi la vita perché poi il risultato del count non ha più le chiavi esterne sulle altre tabelle quindi non è detto che sia più veloce poi da joinare o si fanno delle subquery per restare solamente l'insieme di vertici oppure qua tiriamo giù tutto alla fine quest'ultima query non è stata terribile perché ovviamente ci ha messo solamente 20 secondi rispetto a prima che era sicuramente un paio di minuti perché lui si è accorto che non gli servivano tutti i dati quindi ha ottimizzato in modo migliore la query avrei paura a cercare qua di complicare naturalmente questa query per filtrare i vertici che effettivamente mi servono quasi quasi alla fine ne ho 200 mila me li faccio calcolare tutti e poi ovviamente farò attenzione quando aggiungo gli archi ad non aggiungere archi a vertici che non esistono ok? allora supponiamo che questa sia una strada la strada che vogliamo seguire alla fine ci siamo arrivati abbiamo una query che ci soddisfa gira in 20 secondi grasso che cola rispetto a prima ci servono gli archi ma noi cosa abbiamo? noi abbiamo una serie di coppie di numeri che innanzitutto possono essere o non essere vertici validi nel grafo ma soprattutto non sono vertici perché sono solamente id io per poter aggiungere un arco ho bisogno dell'oggetto album 1 e l'oggetto album 2 allora o complico questa query in modo da prendermi non solamente l'id ma tutti gli attributi dell'album in modo da creare l'oggetto album e mannaggia a me stesso che l'oggetto album ha il campo duration e quindi dovrei calcolarlo oppure no tengo l'id e poi in java converto da id a oggetto facendo una piccola mappa che mi aiuti in questa conversione tra l'altro quella mappa lì magari mi torna anche utile perché mi dice subito se con il vertice ce l'ho oppure no se non è nella mappa vuol dire che non l'ho messo nel grafo e quindi ti ignoro ok quindi non perdiamo i pezzi query che ritorni questa cosa e lo ritornerà come oggetto che contiene due interi poi dai due interi passiamo ai due oggetti andando a usare una mappa che ci costruiremo invece quando abbiamo stato i vertici allora prima cosa non perdiamo sta qui di qui andiamo nel DAO prima che id vada in sciopero allora iTunes DAO public abbiamo una lista mi pare ci sia un oggetto se non sbaglio che si chiama pair che è dentro jgrass-t ho bisogno di creare un oggetto che contenga due campi c'è questo oggetto qua pair che che nella ribida jgrass-t è già pronto andiamo a vedere la documentazione jgrass-t pair è un oggetto che contiene due elementi che lui chiama first second con tanta fantasia di tipo A e di tipo B e basta cioè crea una nuova coppia di valori e poi get first e get second per estrarli set first e set second quindi è l'oggetto che ci saremmo creati l'avremmo creato un oggetto che si chiamava coppia di album con album 1 e album 2 che sono i D di numeri interi quindi solo per comodità mi sono ricordato che nella libreria c'era un oggetto che si chiamava così lo uso altrimenti me lo creo saranno sei righe di codice dimmi questo oggetto vede la differenza tra A B e B A come coppia sì sì per lui sono due campi addirittura la B possono essere di tipi diversi ma poi non è tanto l'oggetto che vede la differenza tra A B e B A cioè tra 1 3 e 3 1 al limite del contenitore in cui lo metto che potrebbe essere una lista non distingue cioè a questo punto dovresti lavorare sull'identità tra due oggetti sull'equals ma non so se mi conviene in questo caso qua cercando di portarmi i dati nel modello per poi poter lavorare sul grafo no? e poi è il grafo che essendo un orientato sa se considerare o non il vertice no? allora questo porta su tutto get diciamo compatible albums beh che bel nome allora questo get compatible albums fa questa query dov'è? l'ho perso qui che è una query non parametrica sappiamo che prende su tutto e abbiamo deciso che ci piace così credo che Java sia l'ultimo linguaggio al mondo che non ha ancora sopportato le stringhe su più righe non sono ancora a livello di proposta a questo punto facciamo la solita trafila di esecuzione della query quindi list di pair integer result uguale new array list di quella roba lì connection connection uguale dbconnect punto get connection statement connection punto prepare statement con questa stringa SQL ci mettiamo non statement ma prepare statement scusate prepare statement ci mettiamo il try catch ci mettiamo il connection punto close e eseguiamo la query execute query execute query adesso di questo risultato dobbiamo stare le varie coppie e metterle nel result quindi while result set punto next next con la x dai che ce la fai scriverlo cosa devo fare result punto add di un nuovo pair integer integer i cui valori questo è un costruttore ok dell'oggetto pair i cui valori siano result set punto get int come si chiamano le due colonne della mia query album id bravo allora magari diamogli un nome es id1 es id2 vado a modificare la query sopra e quindi lo prendo come gli attenti di id1 chiuso virgolette allora andiamo un po' in questi e poi l'altro il gattiente di id2 ok quindi in teoria estraggo id1 id2 che sono le due colonne id1 id2 del pi della coppia crea un oggetto pair mettendoli dentro come first second e lo aggiungo alla mia lista che poi alla fine potrò ritornare altrimenti returnal e vediamo come gestirlo a questo punto questa cosa qua ce la tiriamo su nel modello sappiamo che avremo un oggetto di tipo lista di coppie che chiamerò archi all'italiana uguale dao punto get compatible albums che è qua in fondo devo importare un po' di roba già punto util per dentro jgraph.t punto utile e a questo punto devo iterare su questa struttura dati convertire in oggetti album se ci sono nel grafo e aggiungere l'arco per convertire in oggetti per vedere se sono nel grafo e per convertirli in in oggetti album dicevamo abbiamo bisogno di una mappa quindi vuol dire che questo get out with duration non lo possiamo usare così di brutto così com'è potremmo anche farla dopo dal grafo si mi posso creare una mappa per ora la creo qua localmente stavo pensando se mi servisse anche se mi servirà anche in altri metodi o no se usarla come variabile di 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 classe oppure variabile locale però la metodo la metodo locale sto sempre in tempo a spostarla sopra no quindi map di cosa mappa un integer che l'id su un album e la possiamo chiamare album map che è un id map alla fine no con un uso solamente locale quindi creiamo una nuova page map e ci mettiamo dentro iterando sui vertici del grafo i vari riferimenti quindi for album a che sta nel grafo tra i vertici che ho appena aggiunto nel grafo album id map uguale put scusatemi aggiungo un nuovo elemento con chiave pari all'id numerico dell'album quindi a2.getalbum.id e come valore l'album stesso e così ho un piccolo indice per accedere rapidamente ai vertici del grafo conoscendoli di e questo è quello che mi permette di iterare su questi archi potenziali e andare a selezionare quelli che effettivamente devo aggiungere quindi for per integer integer arco due punti archi per ogni arco di questa lista di coppie che rappresentano gli archi innanzitutto vado a vedere se esistono quindi deve esistere arco punto get first deve esistere dentro la mia id map quindi vado a vedere id map punto contains key di questa cosa qua questo numero usato come chiave nella mappa c'è e idem per il secondo quindi la stessa condizione la devo verificare sul secondo elemento della coppia e poi permettetemi di dire che questi due signori devono essere diversi get first deve essere diverso da arco punto get second perché non vogliamo un arco tra un vertice e se stesso che invece la query mi tira sicuramente fuori non abbiamo messo nessuna condizione tipo id1 maggiore di id2 nella query e quindi ce li tropecchiamo tutti volendo potremmo averlo nella query oppure lo filtriamo qua quindi questa è la condizione affinché l'arco debba essere aggiunto i due vertici estremi quindi le estremità dei due vertici esistono nel grafo quindi sotto insieme di vertici che ho messo nel grafo e non sto creando un arco un self loop a questo punto posso aggiungere l'arco quindi this.grapho punto add edge l'add edge vuole due oggetti di tipo album che semplicemente vado a recuperare dalla mappa conoscendo il d quindi album idmap punto get arco punto get first e poi il secondo sarà album uguale ma col secondo album idmap punto get di arco punto get second una cosa del genere poi questo dovrebbe proviamo proviamo a eseguirlo e quindi agganciamo il controller a questa parte qua di crea grafo ok e finora abbiamo testato la query da sola e ci siamo fidati nel chiamarla e usare tutto questo lavoro qua di creazione dei grafi degli archi allora proviamo a agganciare a questo punto nel controller noi avevamo qui il d che è il parametro di crea grafo e poi il bottone crea grafo che lo attiva quindi avevamo il bottone d che si chiama il campo di testo d che si chiamava txt durata e poi dobbiamo implementare il metodo ducrea grafo quindi ducrea grafo come prima cosa andrà a estrarre la durata chiamiamo la durata s perché lo estrargo come stringa txt durata punto get text verifico se è diverso da zero if durata s equals posso una stringa vuota allora ma gli dico che non va bene valore di obbligatorio ed esco altrimenti vuol dire che ho una stringa provo a convertirla da stringa a double quindi double duration try duration uguale parse double quindi double punto parse double di durata come stringa se tutto va bene ok altrimenti avrò un oggetto un'eccezione di tipo number format exception in cui dirò la durata deve essere un valore numerico e dopo tutte queste cose noiose finalmente possiamo usare il valore di duration possiamo usare il valore di duration per creare il grafo quindi model punto crea grafo con la duration per vedere che cosa succeda magari nella crea grafo stampiamo una riga in fondo in console per dire ho creato il grafo per verificare che sia vivo perché sappiamo che ci mette un certo tempo diciamo che gli ai vertici quanti sono vertex set punto size gli archi gli archi prendiamo l'edge set punto size e proviamo e proviamo a testarlo ah no questo ha eseguito il lao test quindi qui siamo qua creato distanza che sarebbe durata per ora abbiamo scritto distanza abbiamo detto che potrebbe essere 60 minuti a questo punto parte noi sappiamo che dobbiamo aspettare una ventina di secondi per l'acquise sugli archi sono lunghi quando vi aspetti a 20 secondi e poi ti dà un'accezione loose not allowed not allowed vuol dire che io sto cercando di creare un arco tra un vertice e se stesso e ho messo il diverso l'ho sbagliato a scrivere evidentemente model model questo errore me lo dà sicuramente su questa ad edge ad edge 229 è l'unico punto in cui la chiamo a questa riga 35 quindi sto passando due oggetti che sono in realtà identici o che rappresentano lo stesso vertice get first e get second che valori sono io ho chiesto che fossero diversi senti proviamo a mettere un debug poi se una stampa poi se non ne veniamo a capo stampiamo questi due valori qua io sto cercando di capire in questo momento visto che mi dà l'errore che sto creando un arco tra un vertice e se stesso se sono i numeri sbagliati o se sono gli oggetti album sbagliati questo potrebbe essere una buona spiegazione il fatto che questi sono integer non int lo ripeto solo per il microfono il fatto che qua sono integer non int e quindi non devo usare diverso ma devo usare not equals perché essendo oggetti io non li ho convertiti in valori primitivi l'uguale e il diverso come simboli vanno a confrontare l'indirizzo dell'oggetto e non il valore che è contenuto quindi sì sicuramente questo è e se è solo questo ci siamo avanzati un po' di tempo grazie qui adesso le parentesi come sono equals allora c'è noi di troppo no arco non archi arco ha completato ok quindi riproviamoci eccoci qua 102 vertici e 4000 vabbè quelle che sono archi adesso noi se vogliamo fare un grafo più piccolo chiaramente possiamo aumentare la durata dell'album ma sappiamo che il tempo di esecuzione rimane lo stesso perché la query sugli archi è sempre la stessa volendo potremmo anche evitare di rifarla quella query rifarla una volta sola a questo punto i vari crea grafo sarebbero velocissimi ti faccio la query una volta all'inizio dei vertici mi tengo questa lista di per di coppie di interi e poi uso quella adesso non è non è richiesto né necessario però se dovessimo debaggarlo un po' mi viene voglia di non dover aspettare 20 secondi ogni volta che cambio magari il numero della distanza ma non era richiesto quindi cancello l'idea e il pensiero ok quindi a questo punto siamo arrivati a implementare il punto C magari a questo punto dovrebbero esserci dei valori proviamo a vedere con 120 se mi quadrano questi valori qua perché se non quadrano comincio a piangere ovviamente abbiamo scelto questa strada di fare la query gigantesca può darsi che su valori alti di durata avendo grafi più piccoli invece fare tanti query piccole 13,48 che culo benissimo è venuto lo stesso risultato su un grafo da 13 e piuttosto che da 300 che è quello completo ha probabilmente più senso farsi le 130 query singole per vedere se mettere l'arco o no però sono scelte in questo esercizio si potevano portare avanti entrambi ok allora adesso dobbiamo passare al punto D cioè la lettera D del punto 1 selezionare un album della tendina e fare questo calcolino sulle componenti connessa prima di tutto devo popolare questa tendina popolare la tendina con cosa? con l'elenco degli album del grafo quindi in qualche modo il mio modello dovrà esporre al controller l'elenco degli album quindi dov'è Eclipse? qua quindi nel model dovrò avere un metodo che dia al controller l'elenco degli archi che potrebbe essere benissimo il vertex set il vertex set ha solo un piccolo difetto che è disordinato quindi converrà invece restituire magari una lista ordinata in modo che nella tendina troviamo non è richiesto non è scritto però in questo caso però è più facile poi andarsi a trovare diciamo così ciò che ci serve se sono ordinati in ordine alzabetico e quindi prendiamo il vertex set lo sbattiamo in una lista ritorniamo la lista ritorniamo questa public list di album get albums che ovviamente potrò chiamare solo dopo che ho creato il grafo e creerò una list di album album lista uguale uguale new array list di album inizializzata col vertex set quindi butto i vertici nella lista e poi ordino questa lista ordino questa lista andiamo a vedere andiamo a vedere un attimo se album aveva un comparatore quindi posso chiamare sort direttamente e su quali valori lavorava comparable album quindi qualcuno aveva già implementato un comparatore vediamo su cosa lavora questo comparatore sul titolo quindi questo qualcuno è stato bravo gentile a crearsi già il comparatore giusto e quindi list.sort no se non passo il comparatore devo urlare collection giusto list return list a questo punto il controller può chiamare questo metodo per popolare la tendina subito dopo aver creato il grafo quindi controller abbiamo chiamato crea grafo abbiamo la lista di album che sono i vertici uguale model punto get albums ma chiamiamo albums dai importo list importo album e devo popolare la tendina di oggetti album attenzione che la tendina non sa ancora perché non abbiamo ancora detto quali oggetti conterrà quindi devo sostituire il punto interrogativo con la classe album e a questo punto posso buttarci dentro la mia lista combo cmb a1 punto get items punto clear votiamo eventualmente cosa ci fosse perché se l'utente cambia dimensione del grafo non vogliamo aggiungere ma rimpiazzare l'elenco e poi cmb a1 get items add all albums quindi questo mi dovrebbe popolare la tendina facciamo un altro run mentre poi lui farà la query siamo 120 di prima vediamo se poi ci popola la tendina alla fine del calcolo e una volta che abbiamo la tendina l'utente sceglierà che cosa quale vertice dalla tendina e cliccherà sull'analisi componente che molto molto semplicemente deve fare cercare la componente connessa a cui appartiene a1 e calcolare la durata complessiva di tutti gli album bla 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 quindi a questo punto ci servirà un altro metodo del model che secondo me mi restituisce la lista degli album della componente connessa a cui appartiene questo vertice e poi il controller si stamperà queste cose e farà le somme allora 1348 abbiamo visto che qua a questo punto abbiamo popolato la tendina in ordine alfabetico con questi 13C vertici allora il punto D è l'implementazione appunto del calcolo della componente connessa quindi torno nel model e implemento un altro metodo che restituirà sempre una lista di album che invece però è la get componente connessa relativa all'album che il testo chiama A1 per far questo possiamo usare il nostro oggetto che già conoscevamo di connectivity inspector quantity inspector prende un grafo e mi dà ritorna guarda il primo metodo che mi dà connected set set of ritorna un insieme di tutti i vertici che sono nella componente massimamente connessa insieme al vertice specificato cioè i miei vicini di casa della mia componente connessa quindi il metodo generale con il netex set mi dà la lista di tutti i set e ogni set delle continue di vertici che rappresenta una componente connessa ma visto che a me non interessano tutti ma interessano quelli dove abita il mio vertice v e questo metodo qua mi dà già esattamente ciò che mi serve l'altro metodo che può essere utile in altri contesti è chiedersi se due vertici stanno o non stanno nella stessa componente connessa il metodo si chiama esiste un cammino non ti dice qual è ma se stanno nella stessa componente connessa vuol dire che il cammino c'è ok connected set of del connectivity inspector quindi noi abbiamo un connectivity inspector di album default edge c connected inspector uguale new connectivity inspector e ha come parametro il grafo punto e virgola in fondo andiamo capo per poterlo leggere e ciò che mi serve vabbè qui avevo scritto list ma a questo punto restituisco un set visto che già mi dà un set tanto il controller non è che faccia grossa differenza non devo stamparli ordinati questi vertici ma semplicemente contarli e sommarli i pesi e quindi posso semplicemente return connectivity inspector punto connected set of a uno il modello restituisce al controller un set di vertici il controller cosa deve dire dirmi quanti vertici ci sono nel set e la somma delle duration di questi vertici che vabbè si fa una somma giusto andiamo a leggerci il testo la dimensione della componente connessa come appartiene a uno la dimensione di questo set la durata complessiva di tutti gli altri non appartenenti a quella componente e quindi il controller a questo punto avrà un lavoro relativamente facile e quindi c'è questo metodo du componente che dovrà semplicemente estrarre questo vabbè innanzitutto capire qual è il vertice che mi interessa prendendolo la tendina quindi album a uno uguale dalla combo box di a uno prendo il valore if a uno è null l'utente è stato pigro e non è selezionato un valore seleziona un album a capo chiuse virgolette return se invece c'è io posso trovarmi il mio set di album che è la componente connessa importiamo set uguale model punto get componente di a uno e poi mi devo calcolare la somma vabbè ciclo su tutti gli album di questa componente for album a due punti connessa somma uguale somma uguali sommo a punto get durata finalmente potrò fare un text result append text dimensione componente che è un connessa punto size e peso la durata totale somma diciamo che abbiamo fatto in fretta di implementare questo perché abbiamo speso 10 secondi in più andarci a leggere connectivity inspector e trovare il metodo giusto altrimenti avremmo dovuto fare magari un giro un pochino più complicato vediamo che esempio dava qua greatest hits quindi prendiamo quindi prendiamo dalla tendina dovrebbe esserci di credito a qualche parte analisi con componente dimensione componente 3 durata totale 515 erotti mi manca una capo ma 3 515 erotti con 60 proviamo a fare un esempio anche con 60 e poi 102 4200 mi aspetto che stampi nella console ok 102 4131 e andiamo a prendere l'esempio dove avevo unplugged qui ovviamente ne ho 102 quindi ne ho parecchi di più per fortuna l'ho messo in ordine alfabetico la componente mi dice dimensione componente 92 durata totale 6745 che sono questi numeri qua quindi o è giusto o sono riuscito a sbagliarlo nello stesso modo in cui l'ho sbagliato l'anno scorso mettiamo solo questi barra n per pietà estetica ok quindi questo chiude il punto 1 chiude la prima ora e il punto 2 invece è un algoritmo ricorsivo di cui ci occupiamo dopo l'intervallo nel frattempo faccio già direttamente un post di questo progetto così se qualcuno non resistesse a guardarlo lo vede subito grazie a tutti grazie a tutti